ragazzi oggi siamo qui nel corso per youtuber perché si io frequento un corso per youtuber verso che è appena tornato e ragazzi ora stiamo facendo tipo uno stop motion io ho cercato di evitarlo e guardate e ho scambiato la foto 3 con la 4 perché si la 3 era più lunga della 4 quindi allora poi si prende questo per esempio qui però io non lo metto e lo lascio qui e ora ragazzi guardate un po perché non c'ho messo una vita per te allora intanto questo mino con la barba non l'ho disegnato io ma mi pare che io disegno così io ho disegnato in un altro modo che non l'avete sempre visto nei miei video ecco qua ho appena editato e quindi si ora più o meno so editare perché non mi ha insegnato il problema ma mi sono super youtuber quindi insomma vabbè iscrivetevi se volete altri video che faccio stop motion forse questo è il mio primo stop motion credo questo è il mio primo stop motion vabbè questo è il mio primo stop motion ora non so aspetta un attimo eh sotto i titoli di quota del suo non so non so non so non so non so